Ed ecco il percorso che farò con la M1 Buongiorno ragazzi ed ecco la seconda parte del viaggio del sesto primo maggio FS a Pagano A bordo del revamping 608 Rénovare, train 2, condition Siamo, this is Lima Aperatore a porto a destra Choice, open on the right Urgento in assistente Please hold on till the hand is Non è un discheg için Siamo, questa è un'циale Aperatore a l'altore Lei è un'inizio Dieti è la terà Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.